che Malena era lì, era lì non per motivi, nel senso che non era lì perché doveva essere premiata per i suoi film, numerosi film. No, è ancora presto, c'è ancora tanta strada da fare. Appunto, ancora, però è andata a prendere contatto con quel mondo. Beh sì. Si aspettava una serata di quel genere? No, completamente diversa dalle mie aspettative. In cosa si è trovata che non si aspettava? Allora, la fiera sicuramente è una bellissima fiera, organizzata nei minimi dettagli, ma soprattutto lì hai la sensazione che questo mondo, che è il mondo dell'adult, è un vero e proprio business in America, cioè è proprio un discorso commerciale vero e proprio, tant'è vero che la maggior parte delle pornostar per poterti fare una fotografia dovevi pagarle. Dovevi pagarle? Eh, non facciavano foto gratis. Lei, scusi, applichi questo rito in Italia, lei quando fa nelle sue grandi serate, anche lei metta una cifra accessibile. Eh, quindi devi pagare 10 dollari, 20 dollari. Invece lei, l'ho visto che è disponibile, quando fai le serate fai niente, metta uno. È così. Mentre per quanto riguarda la cerimonia, cioè la cerimonia era proprio, sembrava una cerimonia da Oscar, proprio esagerata, bellissima, le ragazze elegantissime. Tra l'altro non sembravano, c'è una differenza tra, quando erano in fiera erano anche a scape da ginnastica, poi durante la cerimonia, delle altre persone completamente bellissime. Bellissima. Lei, come... Bellissima. Bellissima.